La maggioranza consigliare al Comune di Canicattisi è resa protagonista di un gesto, di un atto che ha portato successivamente alla sospensione e al rinvio della seduta. Ecco, vogliamo spiegare il perché della vostra scelta? Ovvio che lo dobbiamo spiegare perché la gente deve capire perché abbiamo fatto questa protesta. Innanzitutto noi non ci siamo sottratti alla discussione del Consiglio Comunale perché, come la città ben sa, noi abbiamo sempre citato tutti i consigli comunali, tutti i punti all'ordine del Consiglio Comunale. Quell'abbandono di ieri sera nasce da una dichiarazione fatta da un consigliere di minoranza dove andava a sostenere che i consiglieri della lista Corbo nel Consiglio Comunale si limitano solamente ad alzare la mano. Evidentemente noi non siamo né burattine né pupe né pupare, nessuno ci tira le fila, nessuno ci dice quello che dobbiamo fare. Noi votiamo per coscienza e secondo quello che ci viene proposto dall'amministrazione, noi viene esaminato, discusso, parlato e votato in Consiglio Comunale. Non ci siamo mai sottratte a dibattito politico e io ho detto chiaramente ieri sera che se il dibattito deve essere fatto, deve essere fatto proprio nel civico consenso del Consiglio Comunale e non nelle televisioni o quantomeno ci sia la controparte che deve rispondere a quanto detto dal consigliere di minoranza. Ecco in questo modo però ieri non si sono potuti discutere alcuni punti che in questi giorni avevano fatto sollevare anche alcune critiche, tra questi quello riguardante la fuoriuscita del Comune di Canicatti dal CUP. Quello entreremo in merito nel prossimo Consiglio Comunale che sarà sicuramente programmato nel successivo anno e verrà affrontato questo del CUP. Però vorrei spezzare una lancia perché in questi giorni circola la voce che noi dobbiamo sottrarre questi soldi all'associazione, dobbiamo fuoriuscire dal CUP. Però cari concittadini non vi preoccupate perché se dovete mandare figli all'università di Agrigento non chiedono il Comune di Canicatti non partecipa allevato quindi non si può scrivere. No, questo dimenticatelo. Per noi quei 10.000 euro che noi diamo al CUP è una somma irrisoria, è una somma irrisoria. Poi ne parleremo, ne affronteremo questo argomento in Consiglio Comunale. Spiegherò perché la nostra somma è una somma irrisoria. E cercheremo di reinvestire questa somma in altre finalità più produttive per la città. Un'ultima cosa, il Consiglio Comunale di ieri che si è aperto e chiuso nel giro di pochi minuti costerà al Comune circa 3.000 euro? Costerà al Comune 3.000 euro perché anziché darli ai consiglieri comunali, almeno io parlo per la lista Corbo, ieri sera già abbiamo mandato agli uffici di devolvere il gettone di presenza dei componenti della lista Corbo e abbiamo deciso di devolverle alle persone meno ambienti che soffrono, che in questo momento possono essere niente però che una boccata di ossigeno. E sono l'associazione CAV, 100 aiuto per la vita, e l'associazione Crescere Insieme, che è un'associazione che si occupa dei bambini malati di oncologia.